Ciao amici, è Revotech a tutti! Come sapete Razer, lo chiameremo così, è conosciuto come un marchio da gaming molto affidabile e anche di qualità. Perciò questi primi monitor in IR hanno sorpreso un po' tutti nel campo del gaming. Nella nostra recensione vedremo quali sono i pro e quali sono i contro e cosa lo rende un prodotto accattivante e da prendere in considerazione. Per darvi un'idea, Morey, che è il nome di queste cuffie, offre un'esperienza immersiva audio cinematografico per garantire uno standard vocale di primordine. Consente inoltre di godere di un isolamento acustico di livello superiore e un'esperienza priva di distorsioni. Oltre all'ergonomia e alla comodità che avrete nell'indossare grazie anche al cavo anti-ingarbugliamento appositamente studiato. Sono cuffie in-ear da gaming per streaming senza microfono dedicato ed è un prodotto che offre una qualità audio di alto livello e senza interruzioni durante lo streaming. Ma tutto il resto lo vediamo subito dopo la sigla e ovviamente vi invito prima a venire sul nostro blog geltech.it, blog di tecnologia più falgo che ci sia, a leggere tutte le nostre recensioni scritte. Stiamo crescendo insieme, perciò aiutateci a crescere, likeate a Bestia, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella delle notifiche e condividete i nostri contenuti. Queste cuffie vengono fornite in una scatola nera con questi accenni di verde stile neon, uno standard al quale ormai siamo abituati per questo tipo di prodotti. La parte anteriore mostra un'immagine delle cuffiette, il nome, il marchio dell'azienda e diverse caratteristiche principali. Altre dettagli del prodotto li trovate sul retro della scatola. All'interno queste cuffiette vengono fornite con diversi altri accessori, fra cui una custodia in semipelle, con cerniera resistente agli spruzzi, un moschettone razor dedicato, un set di auricolari in silicone in tre dimensioni, piccolo, medio e grande, e un set di auricolari in memory foam. Una di queste è già installata sulle cuffiette, sempre piccola, media e grande. Quelli in memory foam sono eccezionalmente comodi e non c'è paragone con quelli in gomma, ma ci torneremo dopo. Il design è appositamente studiato per soddisfare i palati più fini di professionisti legati di solito all'immersività audio cinematografica per garantire i più alti standard per quanto riguarda soprattutto la voce con una buona chiarezza, un'esperienza senza distorsioni e un isolamento acustico di premordine. Il design acustico ibrido a doppio driver è sicuramente uno dei punti di forza perché offre flussi audio full range che non affaticano le orecchie. Potete sperimentare grazie al driver dinamico per bassi ricchi e un driver ad armatura bilanciato per alti sempre nitidi e cristallini. Inoltre, morei vantano una forma ergonomica a basso profilo garantendo una vestibilità naturale e confortevole. Vanno proprio incastrasse all'interno del vostro padiglione e sarà impossibile che vi cadano o che vi scivolino. Attenzione, non sono cuffie per lo sport, non sono cuffie per la mobilità, ma sono cuffie soprattutto per lo streaming multimediale e il gaming. A differenza delle cuffie convenzionali che esercitano una pressione sulla testa ma anche sulle orecchie, queste sono, come dicevo, conformi all'anatomia dell'orecchio stesso. Questo significa che potrete godervi sessioni di streaming prolungate senza alcuna fatica. In effetti io, che sono un po' allergico alle cuffie In-ear, le ho provate e con il gommino in memory foam le ho potute utilizzare tranquillamente per 2-3 ore continuativamente e non ho avvertito la minima fatica. Questo per me è determinante. La custodia per il trasporto è compatta e squadrata con bordi arrotondati. Ha un colore nero semplice ma elegante con il marchio Razer inciso sul lato, inoltre ha un guscio rigido per proteggere le cuffie e una cerniera per tenere chiusa la custodia. All'interno troverete poi una piccola tasca per riporre gli auricolari o i gommini se vi servono o il moschettone se non lo usate. Questi elementi vi permetteranno di sperimentare audio ad alta fedeltà e di primo ordine sia in ambito streaming che in ambito gaming. Queste cuffie rilasciano una qualità audio nei toni alti, sempre nitida, con i driver all'armatura bilanciati. Abbiamo presenza di bassi non super pompati che vi faranno vibrare la testa ma sempre molto puliti. Tra l'altro abbiamo la certificazione THX per una gamma sonora ancora più ricca. Questa certificazione non fa che migliorare la qualità audio di questo prodotto a livello spaziale. THX assicura che le cuffie possono riprodurre audio ad alta risoluzione anche al massimo volume senza produrre distorsioni indesiderate e fastidiose. C'è poi la possibilità dell'immersione completa dello streaming con la riduzione dei rumori passiva. Le cuffie morei bloccano fino a 36 dB di rumore ed escludono le distrazioni intorno a voi. Le abbiamo sperimentate durante le nostre sessioni di gioco e ci hanno permesso di restare sempre concentrati su quello che stavamo facendo in quel momento. Non vi isolerà completamente ma sicuramente vi aiuterà a focalizzare meglio il lavoro e a concentrarvi maggiormente. Queste cuffiette hanno poi dei fili rimovibili decorati con tubi flessibili che rimarranno sempre in posizione salda sopra le vostre orecchie permettendovi di concentrarvi sulle attività di streaming e gioco. La lunghezza del cavo supera poi il metro e mezzo per avere sempre il massimo comfort. Ma veniamo alla qualità prettamente audio delle cuffie. Abbiamo giocato con vari videogiochi, abbiamo notato un tipo di bassi molto naturali, coinvolgenti e non fastidiosi. Come dicevamo prima anche se non sono super pompati hanno una resa davvero eccellente. I toni medi e acuti sono sempre vivaci e nitidi senza mai distorcere o gracchiare. I dialoghi e gli altri suoni sono sempre risultati cristallini e ben separati tra loro rendendo il prodotto eccellente per qualsiasi tipo di utilizzo. Sulla gamma media abbiamo apprezzato molto la chiarezza e la nitidezza. I discorsi nei giochi ma anche durante le chat e anche le video chat sono sempre stati ben nitidi e comprensibili anche in presenza di musica di sottofondo in riproduzione nei giochi e anche nei video youtube. Il suono è sempre stato realistico, ampio, naturale. La precisione è sicuramente indicata per chi fa molto streaming. A parte l'audio che abbiamo visto di qualità un'altra cosa di queste cuffiette Morey che ci ha colpito è stato l'isolamento acustico passivo di buona qualità. THX ha reso poi i suoni più sigillati e bloccato efficacemente il rumore esterno. Di conseguenza abbiamo avuto un'esperienza di gioco e di streaming molto più piacevole e coinvolgente rispetto al normale. Insomma secondo noi queste cuffie al prezzo di circa 120-110 in base all'offerta del momento sono cuffiette ben studiate ma per questo tipo di utilizzo. Quindi non pensiate di prendere le cuffie e utilizzarle come cuffie da sport, cuffie per musica o comunque non specificatamente per musica. Questo prodotto migliora come dicevamo significativamente l'audio nell'esperienza di gioco e di streaming e vi permette di avere una qualità ad alta definizione. Abbiamo apprezzato la sua qualità audio e soprattutto l'ergonomia che ci permette di utilizzarle per tante ore senza stancarci. Per quanto ci riguarda la vestibilità è stata sempre comodissima, aderente, anche con gli occhiali, nessun problema. Ma fate attenzione a utilizzare le misure adatte al vostro padiglione perché si adattino in modo perfetto al vostro orecchio. Per avere anche una migliore resa dell'isolamento. Molto positivo il fatto che Razer abbia dato in dotazione tutti questi accessori, compreso l'astuccino per il viaggio che è molto comodo da portare in giro. Se per caso avete avuto modo di provarle, diteci come vi siete trovati, diteci se ce le avete, se le avete provate da un amico, se avete voglia di comprarle e di provarle. Per noi per essere un paio di cuffiette cablate hanno dimostrato un'eccellente qualità. Devo dire che sono rimasto piacevolmente stupito. Detto questo salutiamo tutti gli amici malati di smartphone, di smartwatch, di cuffie, di modding e tutto il loro network su Telegram. Venite anche sul nostro gruppo Revotech Group, sempre su Telegram. La community si allarga grazie a voi. Ricordatevi che voi siete noi e noi siamo voi. E l'hashtag estranei alla massa. Ci vediamo prestissimo per altri contenuti, anteprime, chicche, sfenguellamenti e quant'altro qui su Revotech. Venite sul nostro blog ceotech.it, il blog di tecnologia più fargo che ci sia a leggere tutte le nostre recensioni scritte. Un saluto da Pasqui e Revotech a tutti. Ciao! Saluto da Pasqui e Revotech.it, il blog di tecnologia più fargo che ci sia a leggere tutte le nostre recensioni scritte. Un saluto da Pasqui e Revotech.it, il blog di tecnologia più fargo che ci sia a leggere tutte le nostre recensioni scritte. Grazie!